... ... ... ... ... andiamo focus ok poi prossimo a questo detto ciò potete anche vedere le vene guardate le vene guardate le vene ce l'abbiamo quasi finita non male adesso finiamo questo qua e poi basta per oggi può bastare poi dopo devo fare altri video e farò solo arambracci polpacci di nuovo guardate le vene guardate le vene guardate le vene